Si continua ragazzi, bene! Ora andiamo a fare il prossimo evento, yeah! Questo gioco è bellissimo perché è americano cioè si vede praticamente uno ha l'abilità di un giocatore quella che io fortunatamente ho scusate eh questo è secondo il mio modestissimo parere quello che penso però fa niente, cerchiamo ahia, che bocca diciamo, cerchiamo di non avvantarci troppo perché adesso devo andare a fare un livello in cui la prima volta mi veniva da bestemmiare ma non l'ho fatto ovviamente perché non si deve fare comunque, questo si chiama inseguimento indiavolato dobbiamo usare lo sceriffo usare avere lo sceriffo ecco, c'è una gara tra trasgressori e teppisti, io faccio trasgressori semmai dopo farò pure i teppisti se ne ho voglio, ma secondo me è la stessa ah sì sì, è la stessa cosa me lo sento io perché ci ho provato a fare entrambe le sfide però facciamo un round solo eh perché questa sfida è difficile ecco, la musica è bellissima ecco, praticamente come dicono le regole bisogna trovare un aggressore e lo dobbiamo acciuffare poi dobbiamo prenderne tre che sono Fletcher, Mia e Geralt ecco, gli indicatori vedi sulla map sono loro e poi c'è una figata che sceriffo fa quando si avvicinano i tonti eh ora guardate ecco, la sirena troppo forte ragazzi mi piace un bel po' anche se è una tortura Fletcheri che è una falwa yeah cerchiamo di stare il più vicino possibile a questi pirla in modo che dov'è? ah ecco oh e cercate di non metterci troppo tempo cioè cercate di sbandare il meno possibile perché altrimenti succede che che li perdete questi scemi io li chiamo scemi perché sono trasgressori quindi dai che l'abbiamo quasi acciuffato vedete quell'indicatore lì sul personaggio se si svuota vuol dire che l'abbiamo catturato cosa che abbiamo fatto infatti Geralt è stato preso passiamo al prossimo trasgressore allora vediamo se riesco a prendere i Fletcher o quello che prendo prendo dai ah la musica ragazzi è una figata figata proprio povero sceriffo si è fatto oddio ci sono i trasgressori dove sono finiti prendiamo Fletcher e chiaro diamoci una decisa e prendiamolo ecco youtube però ha un percorso decisamente diverso come al solito e questo e mi sa che questi questi percorsi sono fatti apposta per farmi arrabbiare yeah vai con la sirena ah il sceriffo è simpatico ma sì mi piace perché ha una ha una vernice carina cioè il nero è carino però devo ammettere che la sirena è una figata ragazzi è una figata no mi sta sfuggendo dov'è stanno scappando stanno scappando e ci credo che stanno scappando sono dei pirma no no non lo perderò aiuto no dimmi che non lo perderò dimmi che non lo perderò porca bomba che male ecco vi do vi do anche una dritta quando perdete ormai non ho più speranze no aspetta forse ancora ce l'ho non è detto non è detto sono riusciti a fuggire lo sapevo vi dicevo quando aspettate devo guardare la scena forse è ora di tornare il dedo ecco praticamente vi dicevo quando avete perso che il sceriffo dice questa frase ecco voi riprendetela da quel trasgressore che avete già preso ecco ora dove è Fletcher? non mi direi che l'ho perso perché quei puntini verdi fortunatamente vi aiuta ah eccolo lì no non è Fletcher è mia ma andiamo a rincorre ah prendi stupido muro e a quanto pare il sceriffo è riuscito a entrare o il sedere tra virgolette nel terreno incredibile ah ecco ora arriva non mi blocco la strada per se riesce a blocarla eccola che arriva no no perché ho fatto questa cosa scema sceriffo devi prenderla anche se facile non sarà prendiamo Fletcher yeah no non cadere no 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 non lo fare ah no più mi è andata quasi bene quasi eh no 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 non lasciamo che scappano non devono scappare ovvio questa è una cosa che non dovrà mai fantastico guarda no no ormai ho perso cavolo eh lo sapevo è una tortura ecco l'avevo detto è una tortura parla questa missione ma vabbè è un let's play devo fare ok ora non avete speranze ah prendiamo Mia Mia non 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 aia attento ma io sono uno sceriffo ho la missione di prenderti tanto è lavoro yeah sceriffo acchiappala figo ragazzi ah no 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 non dai no non lo fare no perché scappano stanno qui e li prendo cosa scappano a fare eh vali a capire ma dai ma cosa scappate fatevi acciuffare no che pisti no non fare il salto eh ah ecco ti piace beh ma se io ti prenderò forse se ce la faccio dai è mia però fatti prendere cavoli no no cretina dov'è finita no no non lasciamo che scappino aia no no non scappare fastidio dopo un po' da fastidio no 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 non succede eccola vieni qui che ormai ti ho preso ha mia presa passiamo al traspessore successivo fletcher ora d'ora è finito quello dell'auto impossibile da prendere che mia e gerald li ho presi con estrema facilità invece fletcher è una cavolata una cavolata negativa ovvero ci vuole molto prendere dai sceriffo cammina fai l'entromarcia no no dai ma perché non vuole farlo ah gliel'ha fatta scusate c'ha un sceriffo c'ha avuto eccolo lì ha avuto un minimo problema di retromarcia eccola vieni qui fatti prendere fatti ammazzare cioè non è che ti devi fare ammazzare ti devi fare prendere punto e basta potevo andare a sbattere contro il cono giuro che potevo andare a sbattere contro il cono ma non importa dobbiamo essere molto prudenti e anche molto veloci secondo me no 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 non lo fai oh beh era bella questa però dove sei finito dove sei non lasciamo che lui scappi eh è fuggito ho un'idea ragazzi se smettiamo che è meglio oh forse io vorrei ritornare te d'occhi sì infatti perché mi sono stancato dai usciamo non ce ne frega niente però è stato divertente dai non dite che è stata una roba brutta perché dai è divertente inseguire le persone però mi ha dato un po' di fastidio eh e la 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 ok e bene ragazzi abbiamo finito anche questo evento ci si vede fra adesso eh